Chi doveva essere presente ha risposto all'appello e così alla prima riunione del nuovo corso del Comitato per la Salute Pubblica ICA a Pino Gambardella, oltre agli iscritti in platea, erano seduti anche politici e rappresentanti delle istituzioni. Il Comitato era nato due anni fa per volere di Pino Gambardella quale punto di riferimento per chiunque abbia o abbia avuto a che fare con le patologie neoplastiche. In questi due anni si era mosso attivamente in favore dell'incolumità dei cittadini vibonesi, promuovendo anche una raccolta di firme per eliminare l'elettrodotto delle ferrovie dell'estato che attraversa Vibo Valenzia. Poi una forzata battuta d'arresto aveva rallentato le sue attività, che sono ricominciate al proprio a pieno ritmo, per continuare a portare a termine le battaglie interraprese dal suo fondatore. Dopo il benvenuto della neopresidente Ida D'Amico, chi voleva ha potuto portare il suo contributo e così è stato. Si è venuti a conoscenza che una bozza per il regolamento comunale che disciplina le emissioni elettromagnetiche e le installazioni di antenne sul territorio comunale verrà portata in giunta proprio questo martedì, quindi passerà immediatamente al vaglio della quarta commissione. Inoltre, grazie all'interessamento dello stesso comitato, riprenderanno i contatti tra l'amministrazione comunale e ferrovie dello Stato per l'interramento dell'elettrodotto. A tal proposito è venuta anche alla luce la proposta di sfruttare il progetto per la costruzione della tangenziale al centro cittadino, per il quale sono già stati stanzati i fondi, e quindi in parte limitare le spese per ulteriori scavi. Altra proposta è stata quella di predisporre un questionario totalmente anonimo e volontario col quale ottenere dati per la mappatura delle zone nelle quali l'incidenza delle patologie neoplastiche risulta più marcata rispetto ad altre. E poi si è anche avuta la rassicurazione di un'attivazione al più presto possibile del registro tumori da parte dell'azienda sanitaria, anch'esso utile per predisporre eventuali progetti di prevenzione o bonifica di aree a rischio. Infine verrà fatto un monitoraggio di tutte le antenne presistenti sul territorio comunale, in modo da censire sia quelle autorizzate che quelle abusive, magari camufate da orpelli vari come cammini fittizi o palme finte. Ma l'interesse del Comitato ICA non si è limitato solo all'aspetto dell'inquinamento elettromagnetico. La salute pubblica può essere minacciata anche da altri comportamenti o situazioni preesistenti. Sarà suo compito ascoltare i cittadini e vigilare che chi di dovere svolga il proprio compito, senza arrivare a situazioni limite né da un lato né dall'altro.